il dipartimento di architettura dell'università degli studi di firenze che ci parla di immagini per agire idee per un ritratto metropolitano ecco buongiorno grazie grazie a tutti spero che si veda tutto se c'è qualcosa che non funziona vi prego di avvertirmi il termetto il mio intervento è molto breve definisce gli elementi essenziali di un ragionamento diciamo che riguarda il ruolo delle immagini dentro uno strumento di pianificazione come il piano strategico diciamo di cui stiamo discutendo scusate i piani sono pieni di immagini diciamo ma le immagini fanno dentro i piani cose diverse noi tutti naturalmente abbiamo confidenza con le immagini che veicolano le scelte diciamo questa immagine la riconoscete è stata citata l'immagine della rete ecologica provinciale del piano territoriale vigente immagini come queste come dire definiscono gli elementi di possibilità del cambiamento articolano lo spazio e per ciascuna porzione definiscono le condizioni di trasformabilità quello che si chiama zonizzazione ma molti degli elementi diciamo che abbiamo discusso fino adesso dimostrano anche forse questo tipo di immagini dentro il piano strategico di cui stiamo discutendo probabilmente non dovrebbe avere ruolo fondamentale d'altra parte le immagini argomenti il piano processo pubblico e quindi le immagini servono anche argomentare diciamo a legittimare da un punto di vista della comunicazione delle scelte che sono state intraprese diciamo ehm questo aspetto mi sembra che viceversa meriti necessarie attenzioni abbiamo visto una eh quantità diciamo di rappresentazioni spesso diciamo coerenti dal punto di vista delle metodologie credo che sia opportuno quindi che si eh ragioni su un dispositivo diciamo che ehm organizzi diciamo le le il quadro di conoscenze eh che è stato utilizzato per prendere decisioni in modo come dire da garantire un'efficacia dal punto di vista della comunicazione. D'altra parte eh i piani contengono anche immagini o perlomeno come dire eh lanciano diciamo immagini e dispositivi che cercano di verificare gli effetti delle scelte dentro processi di monitoraggio. Suppongo insomma so per la verità diciamo che dentro le attività specifiche che il piano ha organizzato quest'idea diciamo del monitoraggio e della visibilità diciamo del monitoraggio continuo è un tema da cui eh rispetto al quale porre è necessario porre una giusta attenzione. Ma l'aspetto diciamo sul quale come dire eh spero di come di sollecitare una qualche eh discussione e riguarda un ruolo diciamo più eh segreto delle immagini dentro i piani che hanno una capacità di costruire o ricostruire delle identità. Eh cerco cerco di spiegarmi con con qualche esempio. Un'immagine come questa eh recuperata dal repertorio diciamo della cartografia storica che descrive l'organizzazione geologica della eh della regione con questa almeno ai miei occhi con questa semplice rotazione diciamo del del nord dispone proprio un'immagine chiarissima del teatro del regione con un proscenio di costa la scena della valle del Tevere le quinte del sistema di vulcani chischi il fondo diciamo dei rilievi appenninici mi sembra che chiarisca con precisione diciamo eh ciò che si sta parlando dal punto di vista del capitale naturale. Le rappresentazioni ai quali siamo abituati diciamo descrivono i luoghi in proporzione diciamo all'area che questi occupano ma naturalmente i nostri eh come dire sistemi descrittivi in realtà hanno sotto dei rapporti di senso che possono essere in qualche modo esplicitati. Questo è uno spazio deformato eh nel in funzione delle persone che abitano diverse porzioni di spazio e da qui questo ventre teso diciamo così dall'idea della prevalenza diciamo di questa centralità ma se il nostro punto è uno spazio appunto articolato in questo modo ma se il nostro punto di vista viceversa riguardasse la dotazione dal punto di vista della possibilità di erogazione di servizi ecosistemici ebbene allora diciamo lo spazio sarebbe eh descrivibile in modo diverso diciamo si si contrarrebbe rispetto alla sua centralità e quello che è margine nell'immagine di prima diventa eh eh come dire il 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 cuore pulsante diciamo eh le immagini sono talmente potente diciamo da costruire proprio un un sistema di eh reputazione diciamo che che si attacca ai luoghi e e e come dire ha difficoltà diciamo li li identifica diciamo e spesso li identifica attraverso attraverso eh stereotipi diciamo questa questione naturalmente è eh insomma storicamente molto legata alla comunicazione colta diciamo resta il fatto che appunto poi eh eh le cose cambiano e hanno la la l'immaginario a fare esistenza rispetto alla al riconoscere il il cambiamento allora il riteniamo nel ragionamento che stiamo facendo che sia utile come un lavoro diciamo sulla ricostruzione della eh delle identità eh come dire in contrasto con stereotipi ehm come dire eh come dire però spinaceto pensavo peggio ecco eh allora la domanda che vorremmo porre diciamo alla discussione è dove è possibile ritrovare diciamo queste tracce di verità oltre gli stereotipi nella descrizione del cambiamento nella descrizione della innovazione sociale supponiamo che una insomma una una strada come dire che che pensiamo di esplorare è quello della eh del cinema e della fotografia contemporanei diciamo che usano eh come dire che costruiscono in modo chiaro diciamo l'immaginario che poi identifica i luoghi diversi qui c'è un esercizio diciamo di trovare ehm rappresentatività per le parti diciamo che abbiamo detto marginali un'altra direzione di ehm possibile è quella dell'esplorazione dei nuovi media digitale del mondo dei social in cui si accumulano eh l'opinione diciamo diffusa eh il il sistemi di valori si accumulano appunto nella forma del cataloghi diciamo di immagini che inevitabilmente esprimono un sentire eh collettivo rispetto all'identità di questi uomini ecco io mi fermo qui e spero che eh in qualche modo cioè c'avevo quest'ultima slide diciamo che sintetizza i nostri obiettivi gli obiettivi che immaginiamo adesso sono appunto quest'idea di costruire o ricostruire dell'identità dando visibilità a spazi a luoghi che o non l'hanno mai avuta o ce l'hanno diciamo vecchia ed è che deve essere come dire innovata in qualche modo ecco davvero questo ho finito vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie, grazie Fabio.